A tutti ragazzi io sono Enzo Attori e vi do il benvenuti in un qualcosa di diverso, non so se si riesce a vedere bene, ecco bravo, avete capito di cosa sto parlando, ho realizzato un video dove giocano dei miei carissimi amici a Crash, ho detto Flu, 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 Fuelet, Fuelet, sti cazzo di nomi, allora insaputa, quindi proprio il massimo della spontaneità, spero che questi video possano piacervi, e poi più avanti ne vanno altri, un saluto da Enzo Attori ragazzi. e poi più in là, comunque le sono cose che non si può perdere, perché il ricicli è quello del Mimo, chi è Luca? Io. L'ho pensato bellissimo. Ma lì che... ehm? Vidrocaffe. Ah ecco, vidrocaffe. Ma c'è quello sguardo un po' da rincoglionire. Io l'ho giocata ma non mi ricordo. Questa è grosso norma. Questo non l'avevo mai... non l'ho giocata però, però me la ricordo, papo papo. E' tirante papo. Che bellissimo. Guarda, guarda come fa... sembra che si cacca sotto questo Mimo. Eeeh. 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 Faccio male. Ecco, poi è un caffè. Ma quattro si che ci vorrebbe, eh? Quattro. NAAA! CHI CHI MI HA COLPITO! Enzo, aspetti il personaggio giusto? Eh sì, ho spero che sì. Però qui potrei perdere, perchè mi confonde un po' questa pista, eeeh. Occhio alle piante. E mi ricordo che le piante sono bastate. Infatti lo sto sparando. Eeeh. E' che più le piste diventano... ...ascensolate. C'è la spezzatoia, eh. Non mi ho accorto. Ma io ti ricordo. No, non ce l'ho fatto. No, qui c'è la pianta qui! Cazzo! Vale, che cosa ho capito? No, non c'è certo! Mi metto a aprire, ma non c'è altro! No, non c'è altro! No, non c'è. Ma non si capiva un cazzo! No, no! Guardando! Sempre! Eh che cazzo! Non mi devi prendere, cazzo! Non mi farò mai prendere. Ma non ho ancora qualcuno sta andando alfield... Ma no! Nooo, la pianta! Eh, vabbé, dai. Io non wah! Che le piante sono bastate! Eeeh, l'ho intuito. Te l'hai provato! Nooooo! Nooo, non su un po' болpore! Nooo, che spate, che spate! Ti è rallentato? Nooo, che palle però! Nooo, nooo, basta! Nooo! Guarda, ma che spalle! Nooo Io sto posizionando una marea di... Qua certo, eh? Dai! Dai! Eh, basta! Niente, sei più costante! Eh, io non mi immaginavo di avere un approccio così... ...buono, cioè, ma... Io non l'ho capito! Ah, ma se tu che mai... Eh! Ciao! Che cazzo è stato! Nooo, ma che cazzo! Quanto odio queste piante di merda! Luca mi dice... Tu non hai idea, io e Peppe, all'epoca... Cioè, insomma, all'inizio... ...quanto si... Esatto! Queste piante sono più bastare! Noi diciamo... A noi ci è risvegliato, diciamo, un'esperienza di un tempo... ...e quindi... ...anche le paure! A me non ha abbastanza, a quanto pare! Eh, beh... Io mi ricordo che, comunque, quando giochiamo insieme, tu, insomma, eh... ...non mi piace... Ah, perfetto! Ma io infatti... Eh, ma perché hai fatto sempre lo stesso errore? Ma c'è qualcosa che hanno modificato che con me va bene, no? Perché io, forse, perché io l'ho troppo pratico di quello vecchio... ...io sento che la curvatura non è la stessa... ...e quindi... ...ho fatto... ...sì! Ho preso la posizione... Eh, però va... Allora, andate a cagare, eh! Ma aspetta, ma aspetta, non mi colpisco! Ma andate a cagare! Non ho fatto malissimo! Eh... No! Maledetto! Scusa, ma lo c***o! No! Mi ha baciato! Mi ha baciato! Cazzo! Hai una vista totalmente elevata, dicendo... Scusa! Ok, tu qua mi sei! Io sono top! Ok! No! Aaaah! Eeeeh! Ma che c***o così male che io mi hanno... Lo dico questo? No! Un missile, vedo! Eh, eh! Eh, vabbè, c'erano tutti con me! Allora, ha baciato! E' come Wants! Esatto! E' come Wants! Oh, culo! Ho vinto! Di nuovo! Ah, che mi hanno sparato! Bombardato! Lanzato di tutto! A te l'hanno fatto un c***o! Eh, eh! Ho fatto un c***o! Vabbè, mi ha preso una volta la pianta! Vai! Prego! Ti prego! Ragazzi! Non vinceremo mai perché Ento ha culo! Vai Daniel, fai subito il partito! A te metto un'altra persona! Ma... Ma... Ma sentitelo! Sentitelo! C'era! Adesso c'è anche un altro! Vedrete! Faccio un po' lo sborone per... Faccio il... Perché mi va bene! Perché mi va bene! Non è che mi va bene! Guarda, sono sicuro che è bene! Secondo me... Guarda, vi metto... Il cut senza un personaggio... E vi faccio vedere come vi amo! Come le pare? Come le pare? Il giro! Sono dicendo a me? No, la signora Luca! Perché lei lo conosce! No, la signora Luca che ne so! Eeeh... La signora Luca! Penso che sia proporzionale alla sfiga che ho! Ahahahah! Signora giudata! Signora... 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 Un sacco di pista che non... Che non ho ancora giocato! Eh, neanche io quindi... Eh, cazzo! Vabbè, ma io me ne ricordo! Eh... Però io... Guarda, lì che Luca ha feso alla drago! È andato benissimo in accelerazione! Vai cominci a fare schifo! Aaaaaah! Oh! Guarda! 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 mi è capitato nel giro di tre secondi attenzione perchè qui è un po prendo tutto ho preso una trama niente ma basta non ho capito se è il joseph o se è il joystick che ha problemi nel girare no no è il personaggio che è ehi oddio non si gira ma vuoi girare ma andate a dover andare il joystick ma vuoi girare forse eh vabbè damma è super duro oh si oh Dio esiste regà una palla che mi spara per te no regà Dio esiste è finita ho capito una cosa ora morirò come un cane perchè l'uva è giusto ah cazzo porco dio ti dice la figa cazzo eh qui sto avendo difficoltà porca droga eh ovviamente il corte scurve non hai più difficoltà di brin non riesci a fare è il mio punto debito tipo di spare con gli squint esatto invece io si rifai hai due risperditi hai due risperditi con un dine porto io so come si fa a essere veloci con gli squinti io so che tu hai un canale di push di accumulo hai accumulatietà eh esatto questo è il mio punto di intervento E' uno scontro... E' guarda che basta! Guarda che è bastardo quel mimo di merda! Nooo! Pure Daniele! Nooo! Non so mai! Nooo! Adesso mi metto tu, cavolo! Ma quello è lontanissimo, cavolo! E' bello e lontanissimo! Porca! Eh! Che cazzo! Guarda Luca come sta facendo il bastardo! Dio, Luca è davanti eh! Eh minchia! Ma non è l'idea di questa cosa! Chi è che ha fatto? Chi è che ha fatto io? Vaffanculo! Vaffanculo! Vai fuori! Vai fuori merda! Ciao, sono arrivati, cioè quello dietro è il numero del computer, ma ha terminato 3 missi, oh! Che! 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 E' il terzo! E' il terzo! Salute! Scalda il motore! E io invece scaldo le latagne! Per evitare un misto di ricerca! Ovvio ci fanno tutti i cazzerolli! Non ci credo! Non l'ho giocata questa adesso! Quello col treno dai! Eh io di nitro kart mi porto pochissimo! Luca, esistono anche gli altri test avversari? Ma veramente te lo dovrei dire a te! Ma non ti ho colpito mai il mio partite! E' vabbè, ecco mi stanno! E' guarda! No, mi ha schiacciato il treno! Io lo fermo! Io lo fermo! Donna! Il treno m'ha fottuto! Io una volta che c'era l'intero dell'acqua Ma non ti ho colpito mai! Non ti ho colpito! Esatto! Oggi ho provato quella tipo Synthwave! Tipo Bubblewave! Quella roba lì! Bello! E' fighissimo! Mi piace il sole! A me non piace la roba di vista! Adesso io mi faccio un ascolto! Poi io ne ricordo! Io non capisco un cazzo! Io non capisco un cazzo! A cazzo! Aspetta, vedo Luca davanti a me! Devo eliminarlo! Cazzo! No! Grazie! Ah ma sei l'uovo! Ma non sei l'uovo! No, io sono... Ah, a colla! No, non mi dico! Ah, è in cinta! Ecco, vedi! Questa pista è già... È... Già... Siamo... Sivellati! Vedi! Poi la pista cambia tutto! Sì, certo! No! Il treno c'è! Unchia! Me la... Madonna! Ho lisciato mare! Luca primo? Luca primo? Luca primo? Ma il treno non mi ha preso! Dai! Mi ha scicato lo stesso! Coalizione contro Luca! Coalizione contro Luca immediatamente! Guardalo! Guardalo per stretch! Ma che ha poi? Che ha lui? Pura? Pura il treno... Lucy ti uccido! Vai Lucy, continua a disturbarlo! I primi! Vai, vai! Le palle, le palle! Tutti su Luca! Mi ha fatto buca! Mettiamogli pressione! Mettetegli pressione! Il suo punto debo nell'ansia! Stai giocando male! Stai giocando male! Stai giocando di meta! Stai giocando di meta! Che è? Stai giocando bene! Ho seguito a Peppe che ha fatto la speciatoria! No! Non l'ho fatto! Non l'ho fatto! Non l'ho fatto! Non l'ho fatto! Vabbè! Non l'ho fatto! Guarda Luca come cazzo specia! E beh! Perché molte curve e lei è in uno sport! Esatto! Guarda come è schifo il treno! Quanto sto arrivando? Mi spiegando? Ciao! Le palle fiste che sono più lunghe! Guarda che lei c'è subito la specia! E giunga avanti! E l'alte sta due! oltre a casa nooo non mi ha preso mi ha colpito Luca no non sono stato io vado guarda la sfida sta basta bastardo mi hai fatto una porcetta di poso guarda come spezza è incazzato l'ero guarda no tiglio del cazzo no vabbè no glielo stronto glielo stronto l'ho fatto il dito un panzello un po' dietro ma l'ho per prendere la storia ma una figlia di me lo si è fatto superare mi credo mi credo no ecco il dito che restardo ferme cioè siamo solo due tigri che si stanno scontrando visto per dormire io so che quello lì ha le armi che vuole spararmi qualche porcheria addosso guarda in silenzio ma senza silenzio c'è da preoccuparsi guarda 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 mi sta arrivando qualcosa no no e non mi sta arrivando qualcosa eh no si sta arrivando qualcosa ok adesso si no 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 piatto superato effetto l'ha superato attento a luca oh luca perfetto ciao ragazzi sono primo no eh ragazzi questa è una delle mie prime vite che parlava nostro oh 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 devi stare attento quando luca non parla perché quando luca non parla accetta tutto qualcosa luca hai già inserito, hai già inserito nel contesto ora adesso vieni adesso guardate domani che ti impegno e vedrai che ti vedi anche tu un moto in teo tutti i morti beh mi hai superato cazzo no minchia quello l'ho lisciata quella dnt cazzo vado via vabbè oh non vuoi non vuoi le vatti eh non vuoi le vatti eh si si butta le boccettine butta le tnt tutto sta cagando eh no no ho preso i lavacalzi no si 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 guarda quanto tnt sta cagando oh ho preso male intera page il ragazzo l'ho detto è finita finalmente ce l'ha fatta no no questa però è stata dura mi chiamata avete visto luca daniele se lo davo no che cosa è successo oh oddio luca vedi eh e adesso sei nel contesto sei lì di entrare nel contesto nooo luca è entrato luca è entrato ma ce l'ho fatta solo perchè Enzo non conosceva la strada ma che significa mi hai messo in difficoltà in continuazione che ci sia rai che mi hablato che ci sia rai che ci sia rai che ci sia rai ero il che ci sia rai Grazie.